Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941, buona domenica a tutti quanti signori mi sono ripreso un attimo dalla delusione di ieri che è stata una cosa impressionante quello che è successo e ho deciso di tornare in miniera signori per cercare altri diamanti mi sono dimenticato a portarmi il piccone con fortuna, ma intanto vediamo se riusciamo a trovare altri diamanti ho già iniziato a scavare un tunnel della mia zona della miniera a livello 31 e vediamo se riusciamo a trovare altri diamanti questo video di questo episodio 42 sarà tutto così? si signori, questo episodio 42 sarà tutto così dovremmo cercare, ho voglia di rilassarmi, ho voglia di rilassarmi, non ho più voglia di morire male e quindi dopo quello che è successo ieri, io quasi quasi però tornerei un attimo su quindi facciamo un breve taglio signori, in modo tale che intanto mi libero già di tutta questa pietra che abbiamo raccolto non abbiamo più ferro perché gli ultimi pezzi di ferro che ho fatto cuocere se non ricordo male li ho consumati tutti per fare questi tre picconi quindi abbiamo solamente tre picconi che consumeremo tutti e tre in questo video per cercare di raccogliere dei diamanti io sto scavando a livello 51 signori, quindi che io sappia il livello 51 dovrebbe essere il livello giusto per trovare i diamanti che io sappia, poi non lo so signori, non ci sto capendo più niente dopo le morte di ieri, guardate sono scioccato, abbiamo perso tutto, abbiamo perso l'arco con infinità abbiamo perso l'armatura in diamante, abbiamo perso il piccone con efficienza non c'ho più voglia proprio di andare nel nether, proprio minimamente a meno che non ci andremo con l'armatura di netherite cosa che possiamo ancora fare in maniera abbastanza facile perché siamo ancora nella versione 1.19 quindi volendo potremmo tranquillamente andare nel nether iniziare a fare dei fosti, dei buchi, dei canaloni anche là e iniziare a cercare la netherite praticamente quello lo potremmo fare, comunque sto deviando il discorso recupero il piccone con fortuna e ci vediamo quando ritorno giù a scavare così magari tutti i materiali che riusciamo a trovare li prendiamo con fortuna e li raddoppiamo meno male che non mi sono portato dietro quel piccone signori sarebbe finita veramente, veramente, veramente male maledetti piglini con l'ascia, maledetti piglini con l'ascia ok, siamo tornati nei cunicoli della nostra miniera signori pronti per continuare a scavare e a cercare altri diamanti perché comunque dobbiamo rifarci l'armatura in diamanti per forza perché non ci... a parte che ora come ora non ho una minima intenzione di tornare nel nether però se riusciamo a trovare... intanto dobbiamo comunque facci un'armatura in diamanti signori perché ci dà molta più protezione e poi potremmo effettivamente andare nel nether per cercare un po' di netherite e quantomeno avere un po' più di protezione rispetto a come eravamo organizzati ieri praticamente e che poi forse ci fossimo concentrati pure sull'incantare l'armatura e quindi avere un'armatura con protezione forse non avremmo subito tutto questo danno da parte dei... di quei piglin maledetti che poi avevamo trovato il tesoro potevamo semplicemente alzare i tacchi e andarcene e che sopra ci sono le altre casse e quindi ogni volta uno si fa prendere dalla... 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 come dice il detto chi troppo vuole nulla stringe signori effettivamente noi abbiamo chiesto troppo e non abbiamo ottenuto assolutamente nulla bene così, bene così vediamo se riusciamo un attimino a trovare magari qualche diamantozzo questo video non durerà tantissimo qui c'è del ferro però che noi intanto ci pigliamo col piccone fortuna sono solo un pezzo ma sei bastardo intanto di qua dovrebbe esserci l'altro tunnel no, non c'è, no ci siamo fermati da questa parte del tunnel bene, ottimo, bene sento della lava io sto rompendo con il piccone giusto, si poi ho rotto col piccone fortuna ma dato solamente un pezzetto di ferro ma che bastardo ok qua c'è della lava ci sono delle torce no, ma là ci sono dei diamanti che fortuna che fortuna che botta di nati che signori uno, va bene uno meglio di niente meglio di niente meglio di niente solamente uno mi prendi veramente così in giro faccio e faccio va bene raccontandiamoci intanto uno l'abbiamo preso che diventano due uno che diventano due mi piace, mi piace questa cosa allora esploriamo di qua c'è il rischio di perderci sì ma noi non abbiamo paura oddio non abbiamo un'armatura non abbiamo niente di niente eh però sì partiamo andiamo all'avventura troveremo qualcosa che ci può dar soddisfazione rispetto al rispetto a ieri intanto non vedo assolutamente niente signori non abbiamo nemmeno il secchiello d'acqua per buttare l'acqua qui per cercare di capire se oltre questa lava c'è qualcosa di interessante no ma mi sa di no, mi sa che è tutta lava queste signori proviamo a rompere così per aprire un po' di più la vista ma mi sa che decisamente tutta lava oh oh io voglio provare ad andare di là e mi continuo a mettere i blocchi senza senza no, ma non c'è nulla signori andiamo a un tozzo magari così a vista a vista no, non ci sta nulla non ci sta nulla poi con il piccone di ferro normale dico ci stiamo una vita ci vaissimo ho portato l'acqua non ho pensato a fare un secchiello d'acqua questo è stato un errore questo è stato un grosso errore c'è qualcosa? vedi qualcosa? di interessante? non vedo assolutamente niente Houston mi rompi questo mi rompi quello no signori è tutta lava tutta lava ferma ferma possiamo tranquillamente tornare indietro recuperiamo bella questa stanza però recuperiamo le torce però perchè pure a carbone siamo messi maruccio e torniamo da dove stavamo scavando di qua c'era questa lava così di lì non vedo niente di interessante proviamo a fare una mini scaletta per salire velocemente ma non vedo niente né materiali né oh ferro piglia piglia piccone fortuna in due minuti facciamo ovviamente la scorta di ferro qui ci vedi qualcosa? non vedo niente voi vedete qualcosa signori? se vedete qualcosa scrivetelo nei commenti ma non vedo niente io penso che anche voi non vediate assolutamente nulla di nulla tra l'altro mi sa che questo muro è tutto così non c'è possibilità di raggiungere l'altro lato invece c'è la possibilità di raggiungere l'altro lato ma mi sa che non c'è manco niente da questa parte ma forse ci si univa con l'altro laghetto tutto va bene quindi l'abbiamo esplorato tutto va bene torniamo nei nostri cunicoli signori torniamo nei nostri cunicoli e continuiamo a scavare come se non ci fossero domani scorso e da dove siamo arrivati noi? questa ora è una bella domanda da dove siamo arrivati noi? perchè non ho messo una fottuta torcia? da qua no va bene il cunicolo non l'abbiamo trovato stiamo tornando indietro visto che lì c'è la st'apertura niente signori è inutile andare a scavare ancora oltre cambiamo lato cambiamo lato e vediamo se dall'altro lato siamo più fortunati e riusciamo a trovare qualche altro diamantozzo noi a casa ne abbiamo due riusciamo a trovare una buona quantità non sarebbe male in modo tale da poterci rifare tutto quanto il nostro ambaradan allora impostiamo un attimino la nuova galleria ovvero 1,2 aspettate di la 1,2 e 3 quindi di qua saliamo dei blocchi che dobbiamo salire tutti di via va ok ora controlliamo le coordinate perchè non so di preciso quanti oh lì c'è della redstone interessante però gli stavo scavando col piccone fortuna sono completamente scemo dai prendiamo tutta sta redstone che quantomeno ci da esperienza mettiamo una torcetta vediamo a quanto siamo qui di altezza perchè io so il tunnel ho sbagliato il tunnel questo qua principale della nostra menina l'ho fatto 53 52 dobbiamo salire ancora di uno l'ho fatto proprio terra terra ok iniziamo a scavare da qua signori vediamo se siamo più fortunati e troviamo qualche qualche bel diamantozzo ci proviamo ci proviamo trovati signori dai così dai così dai così dai così dammeli però magari qualcuno in più uno solo no uno solo così no dai così è proprio preso in giro però scusami uno solo così ok due due mi stanno bene due mi stanno bene dai così e uno e due abbiamo finito non ce n'è più vero no il primo piccone è andato signori il primo piccone è andato il primo piccone è andato il primo piccone è andato ma io non vedo altri diamantozzi qui a giro c'è della reddison qui che prendiamo perché comunque ora come ora ci da esperienza e questo mi fa contento magari possiamo fare qualche altro circuito gli abbiamo trovati un livello più basso i diamanti quindi direi di scendere di un livello sì perché li abbiamo trovati mentre io scavavo li ho trovati qua quindi sì scendiamo di un livello forse siamo più fortunati se scendiamo di un livello e quindi siamo al livello meno 52 guardando il 51 praticamente proviamo può essere? non si sa tutto è un tentativo signori intanto ne abbiamo altri 10 e 9 sono a casa ne abbiamo 19 ne abbiamo fatti 10 con solamente 3 ne abbiamo scavato 3 diamanti e ne abbiamo fatto 10 spettacolo signori anche il secondo piccone ci sta per lasciare e non abbiamo trovato altri diamanti io sto scavando sempre nella stessa direzione ma niente da fare non la stiamo beccando altri diamanti ora io non so se dobbiamo scendere ancora più giù ma che io sappia come livello siamo abbastanza è abbastanza buono dovremmo allargare ancora di più questi condotti può essere di sì può essere di no non ve lo so dire signori intanto noi siamo a livello 51 potremmo tornare indietro aprendo tutto quanto questo tunnel sia sopra che sotto e sarebbe un lavoro pesante però di qua secondo piccone è andato via signori partiamo con il terzo partiamo con il terzo piccone e vediamo cosa succede io non non so di preciso come muovermi e perchè pensavo che comunque l'altezza fosse buona questa se devo devo non so se devo scendere ancora di più o se non o se proprio non c'è niente qui sembra strano però che stiamo o ho distrutto non so quanti blocchi se niente non stiamo beccando assolutamente niente di niente a parte un po' di 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 argilla che non so che cazzarola ci fa qua l'argilla ci sarà sicuramente un un una zona una valle incantata ma dico non non ci interessa non è il nostro obiettivo di oggi abbiamo l'ultimo piccone dobbiamo cercare di trovare altri diamanti signori ma quanto meno anche del ferro non stiamo trovando più niente questa cosa è gravissima questa cosa è gravissima ok signori valle incantata per noi porca miseria una cosa che non ci serviva a niente una cosa che non ci serviva a niente stiamo cercando i diamanti stiamo facendo la ricerca dei diamanti e ci dai la valle incantata che ci dobbiamo fare della valle incantata qualcuno me lo spiega ah recuperiamo questa redstone che quantomeno ci da esperienza a go go a manetta ok anche perchè la redstone l'avevamo finita a casa proviamo a esplorare un poco vediamo cosa riusciamo a trovare magari troviamo dei diamantozzi così a buffo tutto è possibile nella vita di niente tutto è possibile non è proprio malissimo come situazione però se mi dessi dei diamanti io sarei ancora più contento invece di un'esplorazione così molto semplice non ci porta a niente mangia mangia mischini tutto il giorno che va di piccone e giustamente è un pochino debilitato eh sì visto ci ha fatto fa sto tour per non farci andare da nessuna parte praticamente ma sei serio? sì ci stiamo infilando nelle meande di una stiamo praticamente tornando indietro perchè questa è tutta quella che ho trovato io prima quando scavavo e abbiamo finito signori breve storia triste breve storia triste mi ha fatto fare tutto sto giro a perdere tempo per non far nulla e va bene quando si dice il gioco che ti vuole bene ebbene sì ebbene sì il gioco che mi vuole bene di qua sopra c'è qualcosa di qua sopra non si può sentire comunque non so neanche se sei italiano di qua sopra basta che non mi fai cascare l'acqua di botto io ti posso anche voler bene tutta sta argilla ci servirà qualcosa? assolutamente no lì c'è un pochino di lava lì c'è dell'oro qui la valle incantata continua ci sono altre gemme qui c'è della lava interesserebbero dei diamanti dei diamanti proprio belli così ha visto un bel mucchio di almeno 5 diamanti ma quanto mi piacerebbe col piccone fortuna facciamo la svolta svoltiamo svoltiamo signori col piccone fortuna se becchiamo almeno 5 diamantozzi invece non me ne da nemmeno uno proprio eh tirchio in una maniera terribile e questo è pure un piccolo cieco tra l'altro i video stanno durando tantissimo però va bene avrò poco da tagliare se non perché comunque le parti dove scavo già le ho tagliate queste altre parti in cui magari andiamo un attimino all'esplorazione le lascio ma se non troviamo una sega di nulla io non so che fare intanto di sicuro apriamo di qua stiamo attenti a questa lava che già mi è bastata nello scorso video io ricordo cosa fondamentale che abbiamo l'ultimo piccone quindi finito questo piccone possiamo zappare a mano ok là ci sono gli zombie questa no che è la palla incantata mia no, non può essere anche perché non vedo torce dovrei vedere delle torce perché sia la mia palla incantata proviamo a scendere magari troviamo qualcosa magari trasformiamo questo video in sì, siamo passati dalla ricerca di diamanti al alla valla incantata cioè è proprio un passaggio in che dice ma veramente ma veramente qualcosa di qualcosa che non ci aspettavamo una svolta epocale in questo episodio allora prima scende amico continuate alla redstone mi da un fastidio io tra l'altro non c'è neanche una spada zombie quindi mi sa che ti deve accontentare di morir per picconate voi vedete qualcosa di interessante non vedo niente non vedo niente non vedo niente no no due già siete troppi non ho neanche una spada non ho neanche una spada non ho neanche una spada e questa cosa non va bene perché voi non morirete mai no 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 dovete starmi lontano dovete starmi lontano dovete starmi lontano amici ma senza benefici starmi lontano zio muori perfetto torcetta tattica no mi sono finite le torce ok siamo proprio alla frutta signori siamo proprio messi male messi male 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 tutto questo io diamanti non ne vedo non ne vedo nemmeno per il cavolo completamente una valle incantata inutile inutile ma dammelo un diamantozzo così per piacere per farmi contento niente niente non non mi vuole accontentare di qua non c'è niente e di qua sotto non c'è manco niente di là è da dove siamo venuti noi quindi direi ottimo perfetto perfetto abbiamo mezzo piccone cosa stai facendo proviamo ad andare da quel lato magari abbiamo più fortuna proviamo proviamo di qua continua là c'è del ferro che signor del ferro lo dobbiamo prendere perché siamo rimasti a secco completamente ovviamente col piccone fortuna ovviamente sperando che non mi frega niente se si è rotto tutto quanto quello me lo devi da però perché mi serve ok qui c'è dell'altro ferro dammelo dammi questo dammi questo dammi questo ok non vedo altro quante torce sono rimaste solo 8 torce ok se non vedo noi ci stiamo riunendo là c'è un ragno che gira su se stesso è impazzito o è contento di vedere una forma umana che sono millenni che è da solo o è completamente impazzito noi siamo in una situazione in cui non dovevamo minimamente essere perché stiamo esplorando una zona se mi fai salire invece di farmi vomitare sarebbe già tanta roba ok siamo senza torce in espansione in esplorazione con uno scheletro che ci sta colpendo male perfetto un creeper anche qui due creeper anche qui signori se morivamo anche oggi guardate proprio ce l'ha da ridere lo scheletro lo vuole smettere porca miseria pure il ragno sta arrivando bene signori come concludere questo video se non con un'altra morte non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere sta andando tutto storto signori allora va bene per questo video mi fermo qua noi ci rivediamo domani per un nuovo appuntamento è bello conclude la domenica con una nuova morte è la cosa più bella del mondo bella raga ciao ciao